Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Johnny8. Io vi do un consiglio ragazzi, non so se guardare questo video perché le immagini che seguono sono veramente forti, ci tenevo a dirvelo prima di farvelo guardare perché è veramente forte e imbarazzante, non è adatto a tutti ragazzi. Vi do anche un consiglio, scappate via dal mio canale velocemente e vi consiglio anche di togliere l'iscrizione così almeno siete a posto, siete sicuri che non vedrete più cose di questo tipo. Quindi il consiglio ve l'ho dato ragazzi, uomo avvisato, un mezzo salvato. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.